Adesso facciamo una chiacchierata con quelli che sono i protagonisti di questa giornata, un talk che somma distributori e produttori insieme, quindi chiamo qui sul palco Valeriano Fiorentini, direttore di Edil Fiorentini, Giorgia Lermini, founder e general manager di GDE, Energia, Cesare Simonetti, presidente del gruppo GAME e Fabrizio Zaccaron, direttore commerciale di Eclisse. Eccomi qua. Ok, allora argomenti ce ne sono tanti. Io direi di fare subito un giro però prima di commento a quello che è stato il sondaggio di apertura. Per certi versi forse è scontato, per certi versi no. Lei cosa ne pensa innanzitutto? Gli argomenti sono tanti, può scegliere tra le aspettative e il tema degli investimenti e della sostenibilità. Il tema, quello principale, è quello di come sarà il 2023. Il 2023 bisogna intanto basarlo sul 2022, che è un anno eccezionale. Sono due anni, 2021 e 2022, eccezionali che non possono essere implicati nel 2023, a mio parere. Quindi chi ha detto che va meglio è molto ottimista. Il fatto che vada male rispetto al 2022 vuol dire anche che va molto bene rispetto al 2020. Quindi di fatto siamo in una situazione di calo, ma non di un calo troppo importante. Quindi questo per quanto riguarda l'aspetto... Io so che lei rappresenta una realtà molto, come dire, nota, stranota forse, però magari non tutti... Ci fa un identikit veloce del suo gruppo? Allora, il gruppo Gamma è un gruppo che nasce 50 anni fa, nel 71, gruppa 19 soci, 19 partite IVA. Operiamo nel Friuli e nel Veneto orientale, con una cinquantina di punti vendita, con un fatturato importante nel campo di edilizia. Ok, ok. Va bene. Passiamo a Eclis. Facciamo il giro così, che mi sembra più comodo anche per i microfoni. Buongiorno a tutti. I temi sono quelli, direi, di iniziare con il sondaggio. Quindi previsioni, sentiment per l'anno prossimo, sostenibilità e investimenti. Come diceva il professor Nocci, la cosa che mi ha colpito favorevolmente di più è che di fronte all'inflazione il mercato non viaggia e non va verso la riduzione dei costi. Sì, pertanto c'è, secondo me, nelle persone qui presenti una voglia di affrontare il mercato sotto il tema dell'evoluzione, sotto il tema di una voglia di programmare, pianificare, ascoltare il cliente per poi naturalmente dare un'offerta giusta. rubo una frase di Cesare ieri sera, perdonami, ma è una frase veramente bella, posso? Cesare ieri sera diceva che nei momenti di crisi si spostano le quote di mercato. Quindi questa cosa, che è pura verità, crisi ne abbiamo passate tre o quattro ormai negli ultimi quindici anni, in effetti ha fatto selezione. La gente che è qua, i rivenditori che sono qua, i produttori che sono qua, ne sono chiaramente la testimonianza che, parlando di evoluzione, tutta sta platea si è adattata in questi anni. E secondo me il futuro prossimo che ci proporrà altre sfide, secondo me veramente ci coglie preparati, chiaramente con la testa, di dover cambiare, questo assolutamente. Qual è la sua sensazione per il 2023? Ma sicuramente i numeri non saranno quelli del 2022 e 2021, stolto sarebbe colui che pensa che questi due anni passati siano la normalità, era una bolla, lo sapevamo, via dicendo. Però la sensazione è che al di là dei numeri c'è un mercato, un cliente, un finale, ma anche un professionale che si aspetta molto dalla distribuzione edile, si aspetta molto dalla produzione e tutto potrebbe essere concentrato in una parola che si chiama consulenza. Il cliente, prima di cercare un prodotto, oggi secondo me cerca una consulenza. Sta nel produttore e nel distributore fare un lavoro di squadra affinché questa parolina magica, sia consulenza tecnica e commerciale, venga tradotta in un linguaggio comprensibile per chi sta dall'altra parte e o deve affrontare un mutuo importante, quindi un investimento veramente forte. E questa condizione psicologica, per quanto mi riguarda, è una condizione di assoluto favore, per quanto c'è un problema, c'è un'opportunità. Se abbiamo un cliente preoccupato di quello che sarà colui il quale riuscirà a infondere fiducia, sarà quello che alla fine vincerà. E poi le consulenza stanno dicendo sia tecnica che commerciale, quindi saper trattare con il cliente, avere la competenza naturalmente, perché da lì si parte, senza di quella non si fa niente. E poi anche un modo per interagire bene. Ottimo. Siamo Giorgio Lermini che rappresenta un caso, forse non so se unico in Italia, a quanto so io perlomeno, ma che si inserisce bene, la sua esperienza, credo proprio in quello che abbiamo ascoltato prima. E cioè, come dire, l'ingresso della distribuzione edile anche nel settore dell'energia. Sì, buongiorno a tutti. Rispetto infatti alle quattro domande che ci sono. Può spostare anche il microfono, tranquillamente. Sì, rispetto alle quattro domande, dicevo, vorrei focalizzarmi appunto sull'ultima, quella inerente alla sostenibilità, perché appunto è quello di cui mi occupo in azienda. Sono infatti estremamente convinta, come si diceva anche prima, che il ruolo del green e dell'energia sarà fondamentale nei prossimi anni e la dimostrazione lo è anche il feedback che è arrivato appunto da questo sondaggio. Io in azienda appunto mi occupo di... ho creato una nuova divisione dedicata alle rinnovabili con un focus particolare sul fotovoltaico e ad oggi stiamo raggiungendo risultati importanti e per questo credo che appunto nel futuro sarà una tematica sempre più importante anzi di fatto lo è, lo ha già. Ecco, ma spieghi, spieghi, perché da quanto ho capito voi siete una realtà già radicata, una distribuzione edile diciamo tra virgolette tradizionale e avete deciso di aprire... ma cosa, c'è uno spazio fisico? Come funziona? Sì, allora, la divisione si chiama appunto GD Energia ed è una business unit del GDE che è una rivendita edile su Bologna e provincia. È una divisione che è dedicata, come dicevo, alle rinnovabili con un focus sul fotovoltaico e nasce internamente alla rivendita stessa. Su uno dei nostri punti vendita abbiamo deciso appunto di sviluppare anche fisicamente quindi abbiamo degli spazi fisici dedicati a questi materiali e abbiamo appunto deciso di concentrare tutto al momento perlomeno su un unico punto vendita. La divisione è nata tre anni fa in un momento in cui sicuramente c'era molto scetticismo ancora sulle rinnovabili e sul fotovoltaico in particolar modo perché si veniva dai vari anni del conto energia in cui di fatto c'era stata una vera e propria bolla dopo la quale il mercato era sostanzialmente crollato. Diciamo che l'idea nasce da una mia volontà di portare in azienda un tema che avesse uno scopo etico e di sostenibilità rispetto a un'edilizia pura oltre ovviamente ad avere visto anche un'opportunità di business in questo senso. Fra le varie energie rinnovabili abbiamo scelto il fotovoltaico perché ci siamo posti una domanda che è di fatto ci siamo chiesti il perché il fotovoltaico appunto sia un settore completamente in mano all'elettrico quando in realtà come tutti noi sappiamo in copertura ci lavorano le imprese edili e nell'installazione di un impianto una buona parte del lavoro viene fatta in copertura. Abbiamo quindi per questo motivo scelto di focalizzarci su questa forma di energia perché è quella che più si avvicinava al nostro settore dell'edile insomma e avremmo così completato un po' un servizio ai nostri clienti. Funziona o non funziona? Sì, funziona. No, allora, diciamo che appunto noi siamo, come dicevo prima la divisione l'abbiamo presentata per la prima volta nel 2019 e dopodiché c'è stato il Covid quindi concretamente siamo partiti nel 2020 chiaro è che il super bonus ha dato una spinta ma soprattutto il vero cambiamento c'è stato, come si diceva anche nell'intervento di prima dalla guerra in Ucraina in poi quindi dalla crisi energetica che attualmente sta colpendo la società e nella quale come tutti noi sappiamo e si può ormai leggere in qualsiasi quotidiano le rinnovabili giocano un ruolo fondamentale e nel nostro paese dove il sole non manca il fotovoltaico è sicuramente il protagonista quindi sì, sicuramente funziona i risultati erano completamente inaspettati almeno per me pensando a tre anni fa quando siamo partiti e siamo molto soddisfatti. Fiorentini Inizio ci fa un brevissimo identikit del suo gruppo Buongiorno a tutti Edil Fiorentini esiste da circa 40 anni sul Roma siamo a sud precisamente dal punto di vista logistico siamo un'azienda che è partita storicamente come diciamo parte essenziale di un gruppo che poi nel tempo si è allargato anche in altri ambiti sempre nel campo dell'edilizia quindi diciamo evolvendo anche come gruppo aziendale anche dal punto di vista produttivo ma rimane comunque sia all'edilizia Fiorentini la nostra commerciale il nostro distributore punto unico abbiamo fatto una scelta nel tempo di rimanere con questa identità per noi comunque sia un'attività molto importante e proprio sulle riflessioni che ha fatto prima il professor Noci che ringrazio perché veramente secondo me ha colpito la pancia un po' di tutti noi presenti siamo davanti a un bivio dove dobbiamo prendere anche noi delle decisioni come credo un pochino tutti perché un'evoluzione così rapida del mercato secondo me la domanda quella sul 2023 non credo che non dico che non interessa perché sarebbe insomma sbagliato però secondo me non è questo il vero tema che affligge diciamo le nostre coscienze lavorative ma è un futuro un po' più lungimirante perché quello che è accaduto negli scorsi anni ci ha fatto capire che ogni previsione è comunque sia condizionata da eventi covid la guerra o anche altri fattori molto più magari di bassa identità possono alterare facilmente le previsioni ma abbiamo visto che questo ha sicuramente accelerato un'evoluzione di mercato sia dal punto di vista degli stessi progettisti ma anche dei propri clienti che ci troviamo davanti che magari prevedevamo in tempi molto più lunghi oggi ci troviamo davanti a generazioni di ragazzi che pochi anni fa erano a scuola ma che sono nati con l'iPad in mano e che non hanno assolutamente nessun tipo di abitudine anche lavorativa che avevano magari i loro genitori o diciamo le persone che occupavano precedentemente le loro posizioni di lavoro quindi questo qui secondo me ci fa riflettere molto di più su un tema di previsioni a lungo raggio e anche decisioni da parte nostra di come poi far evolvere le nostre aziende distributive piuttosto che una giusta riflessione comunque sia sul 2023 che credo sia molto condizionata poi anche da che cosa riuscirà a essere attuato nel piano del PNRR o altre situazioni similari certo ma per esempio sull'intervento che citava del professor Noci prima gli spunti sono stati molti per quanto riguarda la vostra azienda per esempio che quale può essere come dire l'idea importante di evoluzione guardi io in alcuni passaggi del professor Noci mi sono veramente felicitato mi sono sentito felice di aver comunque sia qualcosa già pensato visto l'autorevolezza del professore mi sono sentito lusingato da solo credo che per esempio il passaggio di consulenza lui parlava di diventare una sorta di google come per esempio i passaggi sul metaverso siano oggi qualcosa che ci potrebbe sembrare lontano ma secondo me molto vicino perché io vedo la fascia di clientela anche di basso profilo tecnico che magari il giorno ci chiede qualcosa comincia a essere tecnicamente interessata a qualcosa di nuovo e non rispondere automaticamente consegna a questo cliente al nostro concorrente che invece comincerà ad avventurarsi in questi processi che sono rischiosi perché logicamente entriamo in un campo che nessuno di noi conosce però possono essere particolarmente stimolanti succede un po' come in campo medico adesso non so se sia esattamente la stessa cosa quando qualcuno ha qualcosa che non sente bene la prima cosa che fa è guardare my personal trainer poi magari telefono al medico però la concorrenza si è esposta anche in questo ambito Simonetti rispetto a questi temi per esempio una cosa che dice il professor Noci è sì i gruppi sicuramente continueranno hanno un loro senso ma devono aggiungere qualcosa i gruppi hanno un loro senso se funzionano se funzionano fanno ufficio acquisti fanno logistica fanno consulenza però attenzione la funzione del rivenditore secondo me è quella di scegliere è una funzione che noi esplettiamo ogni giorno quando scegliamo un prodotto una soluzione all'acquisto quando proponiamo al cliente c'è una soluzione che è sempre un pacchetto che è un pacchetto fatto da noi fatto dalle nostre conoscenze da mettere insieme diversi prodotti quindi questo lo facciamo già secondo il mio punto di vista il fatto di arrivare come diceva il dottor Noci a cogliere delle opportunità interfacciandosi con una richiesta di una di una richiesta di un mercato diverso penso che i nostri prodotti servano sempre che poi l'interlocutore nostro sia già nel contratto ossia l'idraulico l'elettricista il muratore messo insieme sarà il mercato a deciderlo cosa dobbiamo fare noi andare a creare queste società noi ma il nostro funzione secondo me non è quella la signorina ha fatto un'azienda di fotovoltaico energia all'interno di un punto vendita grandissime idee grandissimi fatturati e se l'avesse fatta fuori dal suo punto vendita sarebbe stata uguale sarebbe stata il personale il personale che risponderà a lei ma da quanto ho capito la proposta sua è l'integrazione però il personale che gestisce quella parte è diverso dall'altra cioè secondo me c'è ancora tanto di specializzazione all'interno di un magazzino edile che non vuol dire vendere forati vuol dire vendere centomila referenze e sceglierle che secondo me queste ma qual è il servizio che fornite voi scegliere dare i prodotti più giusti per quello che devono fare dare consulenza su quello che devono fare non penso che sia poco avere sempre materiale a disposizione che penso che non sia neanche questo poco penso che ognuno di noi nel suo piccolo lo faccia quello il problema forse principale è quello di creare dei punti vendita più importanti con i fatturati più importanti all'interno dello stesso punto vendita dove ci siano delle persone dedicate all'informazione tecnica divisa per settore perché già all'interno del settore edile c'è di tutto c'è dall'impermeabilizzazione al tetto ci sono delle banche che la stessa persona non riesce a gestire infatti noi abbiamo bisogno delle consulenze di tutti i fornitori mi sembra il caso un po' di staccarsi ma vedo che lei pone molto l'accento sul fatturato che è diciamo sì il fatturato serve il fatturato serve all'interno se ci sono degli uniti però certo ah beh l'azienda vale per quel numero che c'è in fondo a destra e i numeri che abbiamo visti in questi in quelle percentuali che stiamo vedendo in questi ultimi due anni sono veramente percentuali importanti finalmente finalmente bene Zaccaron il mercato sta cambiando anche per quanto riguarda la distribuzione o vedete una distribuzione diciamo ancorata più o meno alla routine di questi anni è un mercato invece che è cambiato un mercato dell'utente finale o invece non è così no no il mercato sta cambiando noi vediamo che faccio l'esempio dell'azienda che rappresento noi ogni settimana ogni venerdì abbiamo perlomeno 20 rivenditori che vengono volontariamente a fare formazione non è una roba da poco un anno fa non succedeva sta cosa qua evidentemente non si sentiva l'esigenza oggi si sente che le cose stanno cambiando la complessità è tanta abbiamo parlato prima il professor Noci parlava di digitalizzazione di sostenibilità stiamo parlando di tante cose che non siano prodotte lo diamo quasi per scontato però in realtà al prodotto si accumula un qualcosa che noi possiamo chiamare complessità qualcuno chiama difficoltà è cambiamento siccome il cambiamento lo è per la distribuzione ma lo è anche per la produzione ok è fondamentale che ci sia interazione tra e quindi fiducia che da lì si parte va bene tra rivendita e produzione chiaro che la distribuzione è tutta uguale la produzione non è tutta uguale ci mancherebbe altro ciò che sicuramente è uguale è il mercato quindi rispetto è quindi proprio dal verbo rispettare è agire secondo la logica che il produttore deve fare la sua parte deve prendere deve fissare un appuntamento anche fisico la digitalizzazione mi sta bene fino a un certo punto nel senso che ci vuole per la scoperta dei prodotti ma la relazione deve continuare a essere personale quindi io quello che sto battendo molto con la nostra rete vendita affinché vadano dal cliente si siedano fissino appuntamento si siedano e comincino a capire qual è il modello di business quindi tradotto all'organizzazione di ogni singolo rivenditore perché non c'è un'organizzazione singola noi dobbiamo rispettare questa cosa qui ci sono qui dentro dei rivenditori che hanno una certa organizzazione altri che ne hanno altri ci sono rivenditori che fanno oltre 100 milioni di euro ci sono rivenditori che fanno molto meno non possiamo prendere un protocollo e dire così se lo fai bene altrimenti chissà è per la tua strada ma no c'è bisogno di tutti in ognuno c'è una come posso dire un qualcosa da scoprire allora ripeto è molto sempli molto semplice non è semplice sicuramente però non è impossibile quella di partire da quello che vuole il cliente per cliente intendiamo l'ultimo della filiera ecco da questo punto di vista probabilmente la distribuzione edile deve continuare quella sua marcia di acquisizioni di sensibilità sulle esigenze dell'ultimo anche se non è il suo cliente diretto per poi da lì che si parte ma quali opportunità possono essere cesso per la distribuzione secondo questo diciamo rapporto più integrato tra produttore e distributore secondo il mio avviso lo accennavo prima si parte da una grande voglia di casa abbiamo capito la pandemia ha creato nuove esigenze e tutto quello che si vuole e questo va bene si parte da una paura da parte del committente di fare un passo ma anche da parte dei contract da parte delle immobiliari e di conseguenza è necessario ribadisco far squadra assieme lavorare acquisire la competenza tecnica ma anche commerciale io sottolineo questa parte qua perché se dovessi se potessi se mi è promesso di dare un consiglio l'area grande di miglioramento che io vedo nelle rivenditi edili ma anche termoidrauliche anche quello che volete voi è proprio nella parola vendita si chiamano rivendite in realtà la parola vendita ossia approccio con il cliente ascolto cercare di capire cosa veramente vuole è un'area importante qui non dobbiamo lasciare il nostro rivenditore da solo e far teoria dicendo guarda che importante la vendita dobbiamo parlo chiaramente da rappresentante di un'azienda che produce materiali ma che da qualche anno è stata costretta comunque stimolata a produrre anche servizi anche digitale quanto fa assolutamente il digitale noi dobbiamo arrivare al fatto che la digitalizzazione deve liberare il cervello dei rivenditori da quella che è l'ordinaria amministrazione ovvero sia dal preventivo fino alla consegna questa energia che deve essere liberata la fa la macchina questa energia che si recupera deve essere poi spostata nella vendita quindi nell'attenzione nella calma verso l'acquisizione dei bisogni del cliente digitalizzazione adesso credo di non dire nulla di strano se dico che quasi tutti sappiamo che è in corso un processo di standardizzazione dei listini finalmente arrivato anche nella distribuzione edile di price va bene questo per me è un grande passo in avanti e stimolo chiunque a parteciparvi perché credo che il rivenditore scelgano i produttori anche per il motivo anche per questo motivo cioè liberiamo un po' di problemi più qualche azienda si è organizzata con i configuratori anche questo è importante perché la stessa cosa dobbiamo consentire al rivenditore di fare preventivi senza ombra di dubbio che quel preventivo sia sbagliato dobbiamo dare ripeto dei listini che non pensino madonna in questo momento è aggiornato o non è aggiornato quale dei 15 aggiornamenti ci siamo non possiamo più perdere questo tempo digitalizzazione significa anche marketing in un certo punto sappiamo perfettamente ha detto il professor Noci la gente si informa su internet poi per fortuna nel nostro settore compra sul fisico per fortuna ma va su internet quindi un'altra volta il produttore deve aiutare il rivenditore in questo processo di marketing parola sconosciuta tante volte ma che alla fine è più facile di quello che uno possa pensare in ultima analisi una parola che a me piace molto dato che insomma sono sul mondo della vendita il professor Noci prima parlava di vendita distributiva passiamo alla vendita creativa vendita creativa è molto più divertente si soddisfa il cliente che abbiamo di fronte soddisfa noi stessi soddisfa l'intera filiera certo grazie Giorgio Lermini dunque da quanto abbiamo capito l'azienda ha aperto diciamo a fianco ha integrato ma come funziona esattamente il business cioè il vostro utente è la signora Pina che vuole risparmiare o è un'impresa o come come dicevo prima appunto GD Energia nasce proprio con lo scopo di stare a fianco alla rivendita quindi anche per rispondere alla domanda del dottor Simonetti il suo valore aggiunto è assolutamente quello di lavorare insieme alla rivendita e offrire un servizio in più al cliente ad oggi il nostro target sono appunto le imprese edili quindi gli stessi clienti che vengono da noi in rivendita conoscono la nostra divisione ma le imprese edili si dimostrano come dire ricettive sì perché se vengono da voi è perché vi chiedono ma poi come dire nell'atto pratico allora nell'atto pratico nel corso del tempo abbiamo esaurato dei rapporti di partnership con installatori e tecnici quindi sostanzialmente se il cliente è l'impresa edile di solito o sono imprese magari più grandi e strutturate che hanno già al loro interno un elettricista o un installatore e quindi comprano da noi sostanzialmente solo il materiale mi sembra un po' come dire nell'ordine di idee di quello che diceva il professor Noci prima cioè di fare da integratori di servizio sì esattamente infatti l'obiettivo è proprio quello se invece l'impresa è magari un'impresa più piccola o un artigiano o un piccolo artigiano offriamo appunto anche il cosiddetto pacchetto completo andando appunto a proporre questi installatori e tecnici con cui abbiamo stipulato delle partnership noi come GD Energia invece ci occupiamo sostanzialmente della fornitura di materiale rimaniamo nel nostro insomma nel nostro mestiere di commercianti e distribuiamo praticamente la soluzione completa quindi dai classici pannelli in copertura al fotovoltaico integrato con tegole e coppie fotovoltaiche fino a inverter sistema d'accumulo e stazione di ricarica auto ottimo Fiorentini cosa significa offrire non solo materiale ma anche servizi beh guardi secondo me è il tema centrale poi diciamo di questa fase di riflessione che dicevamo prima cioè noi siamo partiti da un mondo che ho avuto la fortuna sfortuna di conoscere da giovane quando diciamo ho cominciato non è che sia anziano però insomma erano ancora più giovani e ho cominciato ad affacciarmi in maniera presente appunto nella attività distributiva in un mondo in cui gli unici due veri canali che io ho visto e ripeto non ho grande stima di questi sistemi di vendita erano prevalentemente una leva sui pagamenti e una sui prezzi oggi sento con grandissima felicità e entusiasmo parlare di tutt'altro e questa cosa dovrebbe farci riflettere a tutti che questa direzione va cavalcata cioè quindi noi siamo un'azienda che sta cercando in tutte le maniere e non è facile perché logicamente tra teoria e pratica credo che tutti siamo coscienti che c'è purtroppo una distanza cerchiamo di colmarla tutti i giorni questa distanza nello scopo di creare più possibile questo servizio di consulenza di partnership con sia i nostri fornitori perché sono fondamentali in questa logicamente assistenza che dobbiamo dare al cliente e appunto lo stesso cliente che però è fortemente condizionato anche dal progettista cosa che fino a qualche anno fa diciamo era abbastanza marginale nella scelta appunto del cliente oggi quindi tutto questo network che si è creato naturalmente perché secondo me ce lo siamo trovato davanti logicamente va assolutamente condiviso e sempre di più sostenuto perché ripeto è un sistema di vendita che migliorerà come già sta accadendo credo le nostre redditività i nostri bilanci e anche ci darà possibilità nei prossimi anni di strutturarci in maniera diversa perché io spero e faccio una riflessione soprattutto per me stesso di non rimanere ubriachi dai numeri di questi due anni e appagarci perché secondo me invece abbiamo un'occasione straordinaria di riutilizzare una parte di quello che logicamente questi due anni ci hanno lasciato per poter prepararci a questo mondo nuovo e qual è il ruolo delle nuove tecnologie in tutto questo ma guardi io credo che le nuove tecnologie ci vuole sicuramente una competenza importante ma sono scelte diverse perché ce ne sono io credo tutti noi abbiamo ricevuto negli ultimi mesi proposte di ogni genere e la scelta è molto complicata anche lì credo che la mia riflessione piccola è quella che comunque vada queste tecnologie debbano essere condivise con i nostri partner anche i nostri fornitori sono essenziali i vecchi schemi per cui ci davano semplicemente una consulenza tecnica ormai secondo me vanno verso qualcosa di dimenticato ci vuole qualcosa di tecnicamente più profondo softwareizzato pratico rapido che ci permetta di affrontare insieme le richieste di clienti e progettisti non sta a me ripeto perché non faccio il softwareista però secondo me è fondamentale ok è tardi quindi facciamo un'ultima velocissima domanda che non vi ho detto al briefing prima quindi un po' così a sorpresa visto che proprio in questi giorni si è insediato un nuovo governo senza entrare nella politica per carità per il vostro settore quale è la richiesta l'idea la cosa che se voi foste lì chiedereste o fareste sistemare i crediti di bonus dacci la possibilità di acquistarli perché oggi noi abbiamo tantissime aziende che hanno di bonus in mano che non sanno dove metterli che vengono svalutati in maniera importante dalle banche e che noi non siamo in grado non economicamente ma tecnicamente di andare a prendere senza rischi quindi basterebbe che mettesse un bollino di 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 qualità su quel bonus cessione del credito zaccaron ma devono secondo me rendere strutturale per almeno cinque anni i bonus attuali in questo momento dal 110 al 65 50 75 non ci capisco veramente io più niente dicano facciamo il 75% 60 l'80 per cinque anni per tutto e non se ne parla più su tutti gli interventi che riguardano l'oggetto casa ok Lermini sì molto semplicemente mi auguro che diano il giusto spazio alle rinnovabili in questo momento di di rivoluzione energetica di grande cambiamento che che stiamo vivendo ok Fiorentini qualsiasi regola va bene ma che possa durare nel tempo cioè non è possibile che ogni due mesi qualcuno propone e cambia sistematicamente tutto secondo me siamo disponibili e l'abbiamo dimostrato nei decenni a stare a qualsiasi regola basta che sia stabile ottimo grazie a tutti e passiamo grazie a tutti Grazie a tutti.